Buon viaggio ancora, bentrovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Un chilometro di code a tratti per lavori sulla 12 tra Versilia e Carrara in direzione di Genova. In A1 materiali dispersi, una perdita accidentale tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ci sono lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, il tratto interessato San Miniato-Montopoli-Valdarno in direzione di Livorno. Ricordo che in A1 dalle 22 di mercoledì 17 alle 3 di giovedì 18 aprile sarà chiusa la stazione di Firenze Sud in uscita per chi proviene da Bologna, in alternativa Firenze-Impruneta. Bene, non ci sono altri aggiornamenti al momento, ma versi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio. Buon viaggio.